Mi chiamo Gianluca Bracciali, ho uno studio commerciale ad Arezzo dal 1988. Con Patrizia abbiamo una società tra professionisti, io commercialista, lei è consulente del lavoro e abbiamo uno staff di 20 persone. Ci occupiamo principalmente della contabilità, delle paghe, della consulenza aziendale societaria e della consulenza del lavoro per i nostri clienti. Mi piace preoccuparmi anche dello sviluppo dell'imprenditore e lo seguiamo anche nello sviluppo dei propri processi produttivi interni all'azienda. Sono appassionato di tecnologia perché consente di velocizzare quelli che sono i nostri processi di lavoro interni. Ci consente di avere tutte le informazioni a portata di un click ovunque siamo, di poter interagire e dare risposte in tempi veloci e rapidi ai nostri clienti. Invitiamo allo studio i nostri clienti, li informiamo, li assistiamo. È un cliente che dal proprio smartphone può vedere tutti i dati dell'azienda, può mettere fatture, può caricare acquisti, può gestire pagamenti e riscossioni dell'azienda. Questo è il nostro tipo di cliente. Non esiste digitalizzazione con la carta. Ogni studio deve digitalizzare tutto quello che ha sulla carta e fare in modo che ogni documento che riceve dal cliente lo riceveva in modo digitale. Grazie a tutto questo lo studio si ritrova le informazioni da gestire non più la carta. Questo ha aiutato molto tutto lo staff che da manovali della carta sono passati a controller del dato rendendo in dashboard in informazioni dati aggiornati in tempo reale alle aziende. Team System ha consentito che i nostri clienti da spettatori di un processo produttivo diventassero parte integrante del processo contabile. Fatture in cloud è stata una soluzione che ha dato molte soddisfazioni sia a noi che ai nostri clienti. I nostri clienti sono soddisfatti che in autonomia possono emettere fatture di vendita, possono gestire l'incasso, il pagamento delle varie fatture che emettono, possono rilevare direttamente i propri corrispettivi, tenere una prima nota, inserire facilmente dalle mail oppure con una foto dallo smartphone, inserire i propri acquisti e le proprie spese. Dal nostro lato ci ha reso grande agevolazione in quanto con un click e in pochi minuti possiamo importare lotti di fatture di vendita veramente importanti. Ad esempio abbiamo importato 1500 fatture con la creazione di 1498 anagrafiche soltanto in quattro minuti e senza nessun errore. Movimenti bancari è stata per noi veramente una rivoluzione. Consente o dal CBI direttamente del cliente oppure importando direttamente il file excel della banca del cliente di registrare molto velocemente senza nessun errore contabilizzare quelli che sono i movimenti bancari delle nostre aziende. I prossimi progetti dello studio sono la firma digitale che consentirà finalmente di far nascere un documento digitale e rimanere digitale in tutta la sua completezza. Altra cosa molto importante che stiamo testando è il TSPI, è un sistema di pagamenti delle competenze dello studio che il nostro cliente può tranquillamente fare in comodità o con carta di credito o anche ratezzare in altre forme. I nostri clienti sono più veloci perché direttamente vanno a operare su piattaforme digitali, inviano il dato digitale allo studio e consentono di contabilizzarlo immediatamente come arriva nello studio. Non si può essere più veloce di così.